... Perquisizione all'alba nella casa di Alberto Perino, portavoce del movimento Notav, indagato dalla procura di Torino per istigazione a delinquere. Buonasera, gentili telespettatori del Piemonte. Dunque c'è una nuova iniziativa della magistratura torinese nell'ambito delle inchieste sulle frange estreme dei Notav. All'alba la DIGGOS ha perquisito la casa di Alberto Perino, tra i portavoce, forse il più conosciuto, del movimento. Perino è indagato dalla procura torinese per il reato di istigazione a delinquere in relazione ai fatti avvenuti nelle ultime settimane, in particolare nel servizio di Paolo Volpato. La casa di Alberto Perino, portavoce storico del movimento Notav, è a Condove, Val di Susa, perquisizione iniziata all'alba dagli agenti della DIGGOS. Perino deve rispondere di istigazione a delinquere, un'indagine che i PM Padalino e Rinaudo hanno aperto dopo aver constatato che su internet venivano diffusi dettagli relativi ai mezzi e alle ditte che lavoravano al cantiere Tave di Chiomonte, targhe di camion, intestatari dei mezzi, indirizzi. Una diffusione di dati sensibili che, secondo gli inquirenti, avrebbe favorito le ultime azioni delle frange violente dei Notav. La DIGGOS ha analizzato il computer, prelevato agende e appunti, fra questi, secondo indiscrezioni, le targhe di alcune auto di polizia e dei mezzi di lavoro delle imprese, certificati del pubblico registro automobilistico, annotazioni. Nell'interrogatorio che aveva affrontato una settimana fa, Perino non aveva fatto mistero di queste circostanze. Vogliamo evitare che blocchi stradali e manifestazioni riguardino mezzi che non hanno a che fare con la Tav, aveva spiegato. Non ha nulla da nascondere, aggiungono i suoi legali, ma gli inquirenti intendono chiarire come questi e altri dati giungessero in mano alle frange violente. Nel poveriggio il Movimento Notav e lo stesso Alberto Perino hanno convocato una conferenza stampa per dare la loro versione dei fatti. Con il limite invalicabile di non far male a nessun essere vivente, ha detto Perino, noi continueremo a fare di tutto per fermare l'opera. A noi, aggiunto, non è mai interessato cambiare il percorso della Torino-Lione. In vent'anni di lotta abbiamo fatto di tutto, manifestazioni, documenti, petizioni, richieste, consigli comunali, via discorrendo, e li abbiamo visti. Il nostro obiettivo è fermare il cantiere. Per questa ragione abbiamo creduto, è la conclusione di Alberto Perino, abbiamo creduto opportuno passare ad azioni più decise. I sabotaggi, a suo dire, sono metodi di lotta non violenti. E a proposito della perquisizione, Perino ha detto ancora di aver ribadito agli investigatori che i dati sui veicoli sono pubblici. L'abbiamo sentito nel servizio e li si può ottenere tramite il PRA.